In Abruzzo le famiglie sono conosciute non per il nome o il cognome, ma per il soprannome. A casa c'era questa vecchietta, Zacongettine, che ha un'età indefinibile dai 70 ai 90 anni. La tipica vecchietta che sta in casa, che cucina, che fa, rammenta la casa, mette i punti, no? Le vecchiette una volta mette... Cioè se bucchi una cavosetta ti mettevi i punti. Ma se bucchi una cavosetta, vai girando anche la cavosetta, perché mia moglie non lo sa fare, va bene. La vecchietta che fa il sugo, come si faceva una volta. Il sugo una volta si iniziava alla mattina dei 6 e usciva il sugo pronto all'una, no? Faceva le bolle del sugo, po! E profumava tutta la casa. Ma quando torna a casa mia moglie... Matonello, lo sugo, lavandina sopra... Che cazzo si è fatto? Lo sugo? E chiamare il pittore? Devo chiamare il pittore, devo chiamare. Mia nonna mi faceva la vecchietta che fa i dolci. Qui in Abruzzo c'è la tradizione di fare i dolci a Pasqua, no? Mia nonna mi faceva il cavallo, cioè un dolce a forma di cavallo, più o meno. Più che un cavallo sembrava una locomotiva, perché andava a tutte e due le parti. Non si sapeva qual era la testa e qual era la coda. Però, insomma, era buono. Mia nonna invece faceva la pupa, la bambola, e lo ricopriva di quei confetti d'acciaio. Avete presente quei confetti d'acciaio? Quello l'ha inventato i dentisti, l'ha inventato. Si mette così, le palline di piombo. E mia sorella, quando mia nonna gli faceva la bamba, lo smondava, metteva in una cassa, entrava in un cassetto, entrava in un armadio. Al mese d'agosto riuscivano le gambe delle pupe, delle bambola. Mia sorella rite perché, è vero? Immaginate queste vecchiette che sanno cucinare, che sanno fare tutte queste cose, perché loro vivono nella famiglia, portano la pace in casa, vogliono bene i nipoti, portano tanta concordia, tanta felicità e portano pure la pensione, perché giustamente la vecchietta contribuisce all'economia familiare. Io mi ricordo arrivare alla casa di Sacconcettino verso le 10 di mattina, lei mi aspettava, stava fuori da casa, perché i gandandini di solito stanno fuori, con la mano sul pozzo, così, e c'era sua nipote, uguale a lei, uguale, uguale, bella, bassa, l'unica differenza è che il nipote non aveva i baffi. Stava così, e io arrivo, e mi ricordo era il periodo di novembre dell'82, e si votava, si rifaceva l'amministrazione comunale, si votava a questo paese, Sant'Eusanio, qui vicino, per cui insomma c'era la campagna elettorale, io arrivo alle 10 a casa di Sacconcettino e arrivo con la mia 127 rossa, uno degli errori che ha fatto la Fiat, la 127 rossa, rossa il primo giorno, dopo diventava arancione, si trasformava. Non so perché, io arrivo e scendo e dice, buongiorno signora, sono venuto a fare la fecondazione artificiale. No, grazie, non sei mai da un altro partito. Sono di un altro partito. Signor, non avete capito, io sono il veterinario, sono venuto a ricoprire la fecondazione. Ah, il veterinario si è tu! Bravo! In Abruzzo le persone anziane si identificano per il fatto che qualsiasi cosa gli dici, ti dicono bravo. Perché loro hanno vissuto la guerra, la carestia, la povertà, e tutto ciò che vedono oggi è bello, quindi bravo, bravo. Dove vai? A scuola? Bravo! Hai mangiato? Bravo! Che si è fatta la cosa? La poliomelite? Bravo! Bravo! Ogni cosa bravo. Allora, e lei comincia subito a indagare, dice, e di donna a sedi, dove sei? Di l'anciano. Ah, bravo! E di che sei Lufi? Di Peppino? Bravo! Che Peppino? E abbiamo fatto amicizia. A un certo punto si guarda attorno, vede la mia macchina e basta, e dice, e l'utore? Il torre non c'è, signora. Non c'è bisogno. Non si è venuta a ricoprire la vacca? Sì. Ma l'utore non c'è bisogno. Oggi faccio tutto io. Ah, il nipote. La nonna, per non fare brutta figura, dice, state zitte, tu che ne sei, il dottore ha studiato. Mo' ce lo spiega perché, come fa. E come funziona questa funzione? Signore, che io c'ho uno strumento che... No! Non la cazzo ha lo strumento! Se non avevi capito... Io c'ho uno strumento che lo metto... No, te lo so capito! A te tu, donna burro va! Mettele dentro, fa la masciata a te, e se ne è andata! Vabbè, io ho fatto il mio lavoro e sono andato via. Dopo nove mesi mi squilli il telefono a casa. Pronto! Parla con un vede renare! Sì! Bra! Sono già con città di pallotto! Eh, signor, buongiorno, dite! Sì, che non avete ragione! Si è partorita la vacca, fatta nuve telle delle bendicazioni! Ecco com'è! Bello! Bene, signore, grazie! Ve la saluto, fa sapere! Grazie a voi, arrivederci! Aspetto il documento! Tagliate le rena tre cose! Dite, signor, che è successo? Nuve telle, si è al suo metano, qual è a voi! Praticamente, lei era convinta di questo, è morta fino a tre anni fa, è vissuta, e ha avuto questa convinzione. Ora io vi presento, sa con città, per come l'ho conosciuta io. Buonasera! Che ti dite? Non hai mai visto una femmina? con le baffi! Ah, Gesù Cristo! Nemmeno se io da morire, non vuoi tornare, e stamattina ci abbiamo detto quando ero bravo! Non c'è tutto il cerebrale! L'hai tappato la coccia! Dico io, non si potrebbe morire dopo le feste! Quando ero bravo, 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 bravo! Ma dico che c'è una vacca a colo che è in partenza, deve partorire! La partorire! Tengo bisogno di un altro veterinario, ma questo è morto, mi hanno dato un numero, devo telefonare per vedere se questo è bravo! Che lo sa? lo vedete! Lo numero tengo scritto qua, scusate, ma la candela lucella, questo è da lontano, e questo è da vicino, da vicino! cinque, uno, cinque, cinque, tutti cinque, adesso no, adesso no, zzz, pronto! Paglia con il veterinario! Buonasera! Scusate la domanda, ma ho avuto una seta? Paglia con il veterinario! Allora siamo paesani! E di che sei lo figlio? Peppino! Peppino chi? Lo figlio di Peppino è cagato! E lo vero è la stessa pallatura di tuo padre! Brava! Che fa tuo padre? Che fa? Sta buono! E lo pezzo che non la rivedete! Salute! E mamma che fa? Mamma che fa? Sta buono! Brava! Salute! E no no che fa? No no che fa? Che fa? Che fa? Sta morto! La cosa di questa mamma era giovane! Eh? Era 13! Non mi sapeva di morire un veterinario! Ci ha detto la cosa di questa mamma! Eh? Siccome ti ha una vacca in partenza, si può venire tu un momento a farlo! L'indirizzo è questo! Zacca! Un cittino di pallotto! La cosa di questa mamma è questo che è l'indirizzo! No! Sì, è la stessa! Che è che? Non è il bivio, è il spazio di Peppino e di Tom! Ah, non si è pratico! Eh? Allora aspetta, ma ti porti alla casa mia, a settata! Eh? A due sei la mia! Vi presto a me! Sei pronto! Rosso di Brunetta, te la ricordate? La prima fioricchetta partita per la ossa, gli ha fatto tre figli, la oggi c'è te Peppino, Peppino l'anno passato, è andato con la moglie, ha fatto tre figli, puri che si è poi uccita a cascata, ha fatto la costa, e se ne ha scappato con la moglie, se ne ha detto che una nera, ci ha fatto due figli fuori letto! Arrete la casa senza, ci sta andando in Tum Tum, Peppino e Ciccioletto, che se ne ha l'amore, fa di fare la savella, tra fa di fare la sippa! Ecco, brava! Arrete la casa, andando in una sola, stendo io, basta, sono rilato! Con le stavano, sono i persi! Eh? non ti impaurire, non ti piove, che la gente che ti smatta le mani, ti ha pensato che ti piove, non è che... Allora ce ne può fare una scappata, non è la sua chiamata, che la trova tre anni, ma con lui me l'ha fatto impaurire, le bestie, non è neanche... Lui veterinario mi ha detto, quando ero bravo, con lui, quando arrivava alla casa mia, andreva alla stalla, le vacche, la riconosceva, e si gira tutto quanto di culo, e lo veterinario non sa che, lo braccio dentro al culo della vacca, e vuschecheva, 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 la vacca si rimanga a accorgere, non se le aveva nemmeno l'orologio, quante volte ce l'hanno andato dentro con lo diavolo? Quando è bacissata la vacca, c'era cacciato due rocci, il braccio della fede, e le è mardate, e come dice, non si è tutto lo veterinario, a frate che l'ho detto, non mi ha fatto perdonare il funato, e tu che fai? Lupustina, ehi, arrivata la pensione! Grazie!